L'Associazione Fronte Comune presenta un'indagine fatta in biblioteca, alcuni mesi di lavoro, un questionario proposto ai giovani per comprendere le esigenze del territorio. Cosa emerge da questo questionario? Allora, intanto abbiamo avuto una grande partecipazione, più di 340 questionari compilati ed emerge un grande apporto della popolazione under 25 e soprattutto grande interesse per quelle che sono le proposte principali, quindi una sala studio aperta H24 per gli studenti universitari e gli studi post diploma, poi uno spazio di socializzazione più qualificato e poi tante proposte sono emerse come riqualificare gli spazi, come aprire le associazioni dei giovani e gli eventi culturali. Quindi tante cose che sono soprattutto emerse dalla spinta dei giovani che nelle risposte aperte hanno dato prova di grande interesse per la biblioteca. Questo sondaggio adesso servirà alla biblioteca per attuare correzioni? Certo, anche miglioramenti. L'obiettivo infatti del questionario è stato quello di sentire e dare voce all'utenza, perché così gli interventi che assieme al Comune e alla biblioteca vorrà mettere in campo possono essere maggiormente qualificati rispetto a ciò che realmente le persone hanno bisogno o interesse e quindi utilizzare meglio anche le risorse pubbliche che sono un bene comune come la cultura. La biblioteca cosa dice? Alcuni accorgimenti sono attuabili in breve tempo a costi bassi? Allora, su alcune cose secondo me sì, ci sono degli aspetti essenzialmente dell'organizzazione degli spazi che si possono migliorare anche nel breve periodo. Altri invece richiedono un po' più di lavoro e soprattutto una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni che sono attive assieme alla biblioteca. Ma noi siamo fiduciosi che molto di questo questionario si potrà realizzare.